Grazie per la linea, buon pomeriggio dall'hotel incontro dove poco fa si è conclusa la conferenza stampa del presidente Taccone. L'attesa verità di Taccone ha raccontato addirittura il presidente di una terza fideuzione firmata dal gruppo AMA, quella assicurativa che sarebbe stata attivata entro il 16 ma che presenterà fuori dai termini perentori promani bus soltanto in questi minuti in federazione. Che cosa significa tutto questo? Ve lo dico prima di ascoltare lo stralcio delle interviste che poi seguirà sul nostro canale nel corso della giornata. Significa semplicemente che facendo riferimento già al caso Rende del 2017, dello scorso anno davanti al collegio di garanzia del CONI, quando il Rende, presentando delle fideuzioni fuori dal termine massimo, era già stato escluso anche dal campionato, ebbene il Rende venne riammesso con la certificazione di un errore scusabile e quindi in un certo qual modo con questo colpo di teatro, lo potremmo definire così di Taccone di questa mattina, l'Avellino è come se avesse blindato quantomeno per il 26 davanti al collegio di garanzia del CONI, la serie B. Fermo restando che Taccone ha ribadito, che per quanto riguarda lui e i legali dell'Avellino, il ricorso per la prima fideuzione, quello della ONIX, dovrebbe andare a buon fine. Fermo restando che ha garantito sulla procedura della seconda fideuzione, che sarebbe stata addirittura firmata il 10 ma trasmessa solo il 16, Taccone sottolinea correttamente della Finboard, ebbene poi c'è questa terza fuori dai termini perentori, come dicevamo. Non ci resta a questo punto che farvi ascoltare lo stralcio di Walter Taccone, ma soprattutto aspettare ancora col fiato sospeso il verdetto del Consiglio federale del 20 e ci auguriamo di non dover arrivare, già esultare quindi il 20 e non arrivare al collegio di garanzia del CONI. Per adesso da Riano Irpini è tutto, restituisco la linea.